Friuli Doc si parte, titoliamo questa sera e come poteva essere altrimenti con la ventiduesima edizione della festa dell'enogastronomia friulana, un grande ospite per l'inaugurazione Carlo Cracco successivamente vedremo le immagini, avete visto anche la diretta prima visto che siamo televisione ufficiale media partner della manifestazione, con noi qui per parlarne c'è l'assessore alla cultura Federico Pirone buonasera assessore, era sul palco baldanzoso prima in mezzo a un sacco di note personalità no no questo era un po' per prenderlo in giro ma lui non se la prende, prima di tutto do la linea ad Angela Caino che saluto un attimo, buonasera Angela, ciao Nicola, buonasera a tutti e poi passo subito perché abbiamo i collegamenti dal vivo della festa e per questo non possiamo fare altro che sfruttarli passo la linea al nostro David Zanirato che vedo dare le spalle alla civica IOPI in un luogo di cultura ma anche di enogastronomia che alla fine è per forza di cose cultura buonasera Davide, a te la linea ben trovato, ben trovato Nicola, ben trovato anche all'assessore Pirone in studio a tutti i nostri telespettatori, continua la nostra diretta live da Udine Friuli e Doc edizione 2016, 22esima edizione come dicevi tu alle nostre spalle la biblioteca IOPI uno dei centri della cultura durante questi quattro giorni di grandi eventi poco fa è terminato lo spettacolo degli acrobati con il naso all'insù applauditissimo dalla gente che si era ritrovata qui in piazza Marconi ma naturalmente tutte le vie di Udine sono già affollatissime via Mercato Vecchio naturalmente con gli stand dell'enogastronomia dei prodotti tipici dell'ERSA tante le persone che hanno voluto degustare come ha fatto Carlo Cracco nel tardo pomeriggio durante l'inaugurazione i prodotti tipici soprattutto quelli a marchio acqua garantiti dall'ERSA ma tantissima gente che non vuole perdersi questa prima serata di Friuli Doc naturalmente vi abbiamo raccontato poco fa dell'evento degli acrobati ma sono tantissimi gli altri appuntamenti da non perdere nelle piazze e nelle strade di Udine dedicati appunto alla cultura, alla musica, allo spettacolo, all'arte e sicuramente l'assessore Pirone ci farà il quadro completo a te Nicola grazie Davide a più tardi per collegarci di nuovo con te che sei inserito nel tessuto cittadino proprio stasera sempre abile con, ricordiamo, Fabio Di Bernardo alla macchina da presa che ti segue Fido assessore, stavo per dire professore però un po' di supplenze le ha fatte quindi non mi sarei sbagliato c'era un bel clima in piazza adesso non voglio fare tanta filosofia sulla cosa perché dopo sembra che andiamo sempre a parlare di cose serie però un po' la contingenza al malumore invece tutti accolti bene tutti applauditi Craco in particolare insomma però mi aspettavo qualche fischio a qualcuno invece tutto benissimo adesso non lo faccio per fare TV Kabul di regime però mi sembrava un clima bello davvero credo che insomma le polemiche fanno parte un po' della nostra quotidianità dico e anche le problematiche però credo che quando la gente la gente di questo territorio comunque vede impegno e si ritrova alla fine in una manifestazione che in qualche modo la mette al centro anche attraverso il gusto attraverso la gastronomia è soddisfatta io io trovo che insomma il popolo friulano è un popolo attento ma è un popolo anche che sa sa riconoscersi insomma in quello che viene il proposito soprattutto se è di qualità certo fra fra le cose che il testimonial fra i suggerimenti che il testimonial ha sottolineato c'era quello è importante far festa diceva Carlo Cracco però è una questione di orgoglio vedendo tanta gente questa cosa dell'orgoglio insomma si vede che è sentita è manifesta ma assolutamente poi molti hanno anche da altre parti in qualche modo sottolineato il carattere negativo che avrebbe la popolarità di questa festa in realtà forse questo è il diciamo il marchio vincente veramente il fatto di mettere al centro le famiglie le persone in questa idea di comunità Carlo Cracco nel suo accento veneto pur nella sua provenienza veneta ma ovviamente nel suo profilo di personaggio insomma che il mondo lo gira ha riconosciuto ecco credo nelle poche battute che gli abbiamo sentito pronunciare dal palco questo aspetto ecco fra le altre poche battute ma significative c'è quella manifesta secondo me dell'innovazione qualcuno chiedeva i prodotti da esportare la nostra tradizione eccetera dice sì va bene però bisogna andare avanti progredire non ci si ferma alle solite cose cioè non bisogna sviluppare i prodotti dicevano significa farne di più ma significa farli meglio questo era un bel messaggio se noi pensiamo oggi c'è un mantra della crescita della competitività ma senza la qualità oggi rischiamo di produrre vuoto più che di produrre un di più c'è da dire questo credo che il Friuli debba evitare il rischio di cullarsi un po' su il proprio passato sulle proprie tradizioni sono tradizioni di cui andare cioè tradizioni ci sono le rispettiamo andarne fieri le abbiamo non le mettiamo in discussione però non è solo quello il concetto di identità è di per sé un concetto non definito che cos'è oggi l'identità meglio parlare dell'identità al plurale ma oggi come dire se vogliamo raccontare questa terra diciamo questa questa parte di territorio dobbiamo secondo me riuscire a farlo oltre che tra di noi anche in un contesto molto più ampio il contesto che è globale ecco l'augurio è che questa città grazie anche a Friuli Doc faccia parlare di se stessa soprattutto al di fuori oltre che a dirsi al proprio interno quanto siamo bravi ecco qui vediamo in copertura le immagini con Carlo Cracco che insomma ringa la numerosissima platea che era presente un sacco di donne anche un po' la coccolata eravamo un po' invidiosi insomma noi da maschietti di tutto questo codazzo femminile anche poi per gli autografi che aveva dedicato Carlo Cracco io adesso dopo averla salutata in maniera sbrigativa perché avevamo il collegamento con con David Zanirato tornerei con Angela Caino per vedere un po' come sui social viene discusso e partecipato Friuli Doc cioè Facebook Instagram insomma foto in ogni dove per celebrare il giovedì della manifestazione che è quello tradizionalmente vissuto molto di più dagli udinesi proprio eh sì Nicola perché gli udinesi e non solo hanno già messo sui social network parecchie foto e parecchi commenti relativi a queste prime ore di Friuli Doc numero 22 prima Davide Zanirato nel nostro collegamento ricordava eh gli equilibristi che hanno messo in scena questo spettacolo in centro qua siamo su Instagram e vediamo appunto proprio questa immagine dello spettacolo che come ha detto Davide ha tenuto tutti con il naso eh all'insù in attesa di eh scoprire eh quello quello che accadeva quanto accadeva poi sempre su Instagram eh tante altre foto ci sono al momento quarantaquattro eh post l'hashtag Friuli Doc 22 22 è il numero di questa eh edizione tante belle foto vediamo qua alcuni bicchieri eh di vino eh o di birra forse mi sono sbagliata eh questo è una foto inserita da Confartigianato Udine e poi eh scorrendo ancora vediamo appunto tante altre foto che ci raccontano eh questa ventiduesima edizione appunto di di Friuli Doc tante foto su Instagram andiamo anche eh su sulla pagina Facebook di Friuli Doc in questo momento imperversano le foto di eh Carlo Cracco veramente molto applaudito molto eh acclamato dal pubblico lo vediamo con il manifesto eh di Friuli Doc alle spalle e ancora invece questa bella foto eh della piazza di Piazza Libertà davvero gremita per questa inaugurazione questa è una foto del ehm del comune di Tassotto e Max e poi ancora i tanti autografi firmati eh da eh Cracco vediamo anche il nostro Fabio Di Bernardo in questa foto che durante la diretta di prima ci ha fornito le immagini di questa inaugurazione ancora foto di Cracco nell'incontro in comune con il sindaco qua prima del del taglio del nastro vediamo l'assessore eh Pironi alle spalle la presidente della regione eh Serracchiani e poi ancora appunto tanti altri momenti eh dell'inaugurazione è bella anche questa foto di Friuli Doc benvenuti a Udine Friuli Doc è la bandiera del del Friuli in eh in primo piano eh poi abbiamo anche una foto della fanfara della brigata alpina Giulia che ha dato il via a eh questa eh cerimonia andiamo anche su Twitter velocemente Nicola e poi ti restituisco la linea c'è chi dice sono in buona compagnia eh e appunto mostra eh questa foto di Cracco e del pubblico in in piazza e poi ancora scendendo tante altre eh immagini e c'è appunto anche questa eh questo messaggio questo tweet di Igor Piani e della brigata Alpina Giulia che ci ricorda appunto brigata Alpina hashtag Giulia a Friuli Doc 2016 con la fanfara a Udine questi eh Nicola alcuni messaggi alcune foto che stanno cominciando a riempire i social network adesso ti restituisco la linea perché forse torniamo anche in piazza con David Zanirato eh sì torniamo passiamo dalla dalla fanfara della brigata Alpina Giulia al nostro solista per eccellenza David Zanirato che è in piazza San Giacomo eh per un'iniziativa originale la prima volta di quest'anno a te la linea David Grazie Nicola alle mie spalle lo stato vedendo il pianoforte a tocco libero una delle novità di questa edizione 2016 di Friuli Doc poco fa è terminata l'esibizione di Shari Noioso una pianista udinese che ha avuto grandissimo successo ai talent show questo pianoforte sarà a disposizione per tutto l'arco della quattro giorni di Friuli Doc che saranno tantissimi i pianisti che si alterneranno qui per suonare le loro musiche e per raccogliere tanta gente come quella che è già presente qui stasera qui in San Giacomo dove all'interno degli stand troviamo l'enoteca dei vini del Friuli Venezia Giulia il consorzio di tutela del formaggio Montasio e poi da domani partiranno le degustazioni gli show cooking proprio qui dalla piazza con tantissimi chef che si alterneranno e dallo stand dell'enoteca regionale proviamo anche a sentire i primi umori da parte dei partecipanti di Friuli Doc abbiamo queste signore qui siete a Friuli Doc come sta andando questa prima serata? Bene siamo appena arrivate comunque un primo calice ci sta sempre questo è il primo è il primo è il primo è il serato mille qual è il segreto di Friuli Doc secondo voi siete delle affezionate insomma di questa manifestazione sì siamo delle affezionate il segreto il vino anche il mangiare ringraziamo buona serata buona Friuli Doc anche a voi vedete appunto tantissima gente che sta venendo ad assaggiare le prelibatezze della nostra regione e naturalmente a partecipare ai tanti eventi in programma come dicevamo in precedenza a te Nicola e sarebbe da monitorare un po' la serata delle nostre due intervistate magari dopo il terzo quarto bicchiere sarebbero state un po' più un po' più prodighe di parole un po' più loquacci però va benissimo va benissimo così sappiamo che un po' la riservatezza è diciamo un vanto di queste terre Assessore abbiamo visto questa diciamo dimensione culturale all'interno della manifestazione ce ne sono tante il pianoforte a tocco libero non è l'unico evento diciamo che trasmette anche qualcosa di più oltre al legittimo mangiare e bere sì penso che le le iniziative culturali pensate siano il completamento il il coronamento il corollario ecco di una manifestazione che ovviamente nel cibo nel gusto nella gastronomia ha evidentemente il proprio elemento di primo piano ma che può accompagnarsi può essere accompagnata anche da una serie di eccellenze culturali come quelle proposte appunto da vicino lontano molte sinergie quest'anno no? ma credo che la stagione di della dei compartimenti stagni sia in qualche modo finita è sempre più importante che le amministrazioni pubbliche e l'amministrazione pubblica e noi l'abbiamo fatto mettano davanti l'idea e costruiscano un percorso che sia che veda la partecipazione di più soggetti che concorrono a queste idee ecco in questa manifestazione che è sotto la regia dell'assessorato al turismo l'attività produttiva del collega Venanzi questa ecco in questa grande festa ci sono tante cose che la rendono bella ecco vediamo con David Zanirato di nuovo mi sembra che abbia qualche ospite interessante lì sempre negli stand di Piazza San Giacomo vediamo se riusciamo a dargli la linea David eccoci Sì Nicola abbiamo raggiunto il direttore generale di promo turismo FWG Marco Tullio Petrangelo buonasera direttore una festa che è partita nel migliore dei modi stasera vero? Beh la festa è la solita festa è il momento terminale di un anno per noi che vede un notevole successo delle iniziative che ci hanno visto insieme in supporto all'ERSA insieme all'ERSA per la promozione del turismo enogastronomico di questa regione diciamo certamente un anno molto buono è una degna conclusione diciamo che non è una conclusione ma insomma l'evento top in questo scenario splendido anche perché qui con tantissimi stand e con tantissima gente si può mettere in mostra le migliori eccellenze non solo dell'enogastronomia non solo dei vini regionali ma anche le proposte turistiche per coloro che magari decidessero di venire in friù nei prossimi mesi a trascorrere le vacanze certo il focus qui chiaramente è un focus più basato sull'enogastronomia che è uno dei prodotti su cui puntiamo di più viste le qualità della nostra offerta enogastronomica in regione quindi certamente sì abbiamo fatto della promozione insieme col comune di Udine insieme con ERSA della promozione soprattutto nei mercati austriaci carinziani tedeschi per aumentare il flusso di persone che vengono qui e che quindi possono sia godersi la festa che tornare a casa loro con effettivamente un'idea di una vacanza in Friuli diciamo più probabile di quella che avessero prima e poi non è ancora finita la stagione estiva ma i numeri i primi numeri sono soddisfacenti questa estate 2016 per la nostra regione sì i numeri sono buoni abbiamo i numeri consolidati su luglio che vedono anche quest'anno un significativo incremento sull'anno scorso che già segnò un incremento sull'anno precedente aspettiamo i dati di agosto ancora prematuro intanto godiamoci il Friuli Doc ci godiamo il Friuli Doc insomma bene per tutti che vengano qui a vedere quanto bravi siamo grazie grazie a Marco Tullio Petrangelo direttore generale di Promo Turismo FWG a te Nicola ecco adesso passiamo da Petrangelo direttore di Promo Turismo FWG a Angela invece la desinenza è quasi simile che ci racconta se c'è qualche altro aggiornamento sicuramente ci saranno altre foto altri post e altre diciamo testimonianze online dello sviluppo della festa sì Nicola torniamo sui social network torniamo cominciamo da Twitter e c'è un ultimo tweet sette minuti fa Elies che dice e comunque Carlo Cracco è bellissimo dal vivo quasi più che in tv molto bravo anche se mi è caduto sulla gubana quindi ancora il testimonial al centro dei messaggi che troviamo sui social network Carlo Cracco che alla domanda della presentatrice se conoscesse o meno la gubana è scivolato non si è capito sia stato uno scivolone reale oppure ci abbia giocato un po' su il Masterchef poi magari lo chiediamo all'assessore invece tornando su Facebook sulla pagina ufficiale di Friuli Doc vediamo questo post che ci ricorda che ci ricorda gli appuntamenti di questa sera alle 21.30 non perdetevi lo show di Udine Jazz Collective in Piazza Libertà quindi tanta enogastronomia ma anche tanti altri appuntamenti musicali per questa 22esima edizione di Friuli Doc che poi sempre sulla pagina Facebook anche un post che ci ricorda il potenziamento delle linee del trasporto pubblico che scatteranno da domani ecco siamo riusciti a trovare il post eccolo qua ci sono tutte le informazioni sui potenziamenti delle linee sul biglietto speciale da 1,25 euro valido per 6 ore vediamo appunto anche la mappa che mostra bene tutti i percorsi che si possono fare con i mezzi pubblici collegamenti che partiranno da domani come ci ricorda questo commento a questa notizia potenziamenti delle linee che partono tutti da domani a te Nicola bene mezzi pubblici potenziati con la mappa insomma che dà l'idea di quello che si possa fare per raggiungere agevolmente la città parlando di mappe quella irrinunciabile della manifestazione è quella dei chioschi adesso io chiedo all'assessore senza far torto a nessuno dove a tutti i costi andrà lui che cosa lo ingolosisce di questa edizione magari qualcosa che mangiava sempre nelle scorse un po' così da tradizione tra i vari stand si 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 ma devo fare oggi ho già avuto modo di assaggiare mi è già partito subito cosa che non mi era riuscita negli altri anni perché era sempre pieno lo stand dell'Oca l'Oca di Morsano di Morsano dov'è lo stand dell'Oca? è praticamente la di Piazzetta Belloni devo dire ho mangiato molto molto bene bene se no credo che il tarvisiano sia regala sempre grandi emozioni per lo stomaco per i palati benissimo e con i consigli dell'assessore Pirone possiamo chiudere la puntata grazie ad Angela che ci ha aiutati come sempre benissimo alla postazione web grazie a voi ciao a tutti e grazie a tutti appuntamento domani e parleremo sempre di Friuli Doc buonasera a tutti grazie a tutti